Sono positivi i commenti raccolti ai microfoni di TV City dei cittadini di Torre del Greco che da alcuni giorni stanno utilizzando la prima ecoisola voluta dall'amministrazione comunale e installata al parcheggio La Salle. Una volta sola sono venuto. Come si è trovato? È semplicissimo. Pensavo di trovare più difficoltà ma è stato facilissimo quindi tutto... Mi sono meravigliato. Avere a disposizione una postazione dove versare quotidianamente secondo me è un vantaggio. È una cosa positiva? Buonissima. Quindi lei la utilizzerà? Sì. Io personalmente no però mia moglie sì. Ci tiene. Siamo più politi qua. Io le ho ottenuto una monnezza qua. Infatti buttano ancora qua. Che cosa bisogna fare per evitare questo? Bisogna... la gente deve cambiare. Quindi questo sistema è facile e veloce? Sì sì è facile. Ho visto come funziona però io vivo solo. Non è che tenga tanta... Non ha molti rifiuti da conferire. Per il momento sembra una cosa buona. A mio rispetto al recente passato. Stiamo a vedere. Sicuramente è un vantaggio per il cittadino poter conferire in ogni orario della giornata tutte le tipologie di rifiuto. Sicuramente è un vantaggio però da una... così un'occhiata veloce mi sembra un po' piccolina rispetto alla mole di conferimenti. Non lo so. Poi bisogna vedere esattamente come vengono fatte le raccolte. Per il momento stiamo a vedere di che si tratta. Ogni novità è ben accetto. Finché insomma vanno al nostro vantaggio. Il primo giorno la tessera non passava. Poi... Il sistema è facile. Sì sì è abbastanza. Però domenica è venuta mia sorella era piena e non riusciva a mettere la roba dentro. Capito? Sicuramente è comodo. È comodo. Sì come infatti. Mi ho preso tutta l'immondizia. Speriamo che va bene. Un sistema che consente, avvalendosi della tessera sanitaria, di conferire le diverse tipologie di rifiuto senza distinzioni di giorni ed orari. Ok tutto bene. In poco tempo si è liberata di tutti i rifiuti. Sì non ce la facevo con quelli... preferisco così. Preferisco venire qua anche se abito a Sant'Antonio. Se è valida e dà profitto di qualcosa certamente. Perché dobbiamo fare sempre le cose per migliorare il paese. È facile, veloce e sicuramente vantaggioso. Commentano i torresi che sperano in un'ulteriore implementazione e invocano come di consueto maggiori controlli per far fronte ai sempre più frequenti atti di inciviltà. È una cosa molto utile. Si doveva implementare per tutti i punti della città. Non basta solo qui. Il sistema è veloce e funzionale? Certamente. Però bisogna che ci sia anche qualcuno alla guida per istruire la gente che purtroppo non tutti hanno le stesse facoltà. È un sistema di controllo che non guasterebbe perché c'è anche chi infrangia le leggi. Stamattina è la prima volta che viene qui all'Isola Elettronica. Come si è trovato? Beh, è abbastanza bene. Speriamo che farlo fanno funzionare bene questo servizio. È come diceva prima il signore di prima che dovrebbero mettere più in punti della città e fare più controlli. Perché purtroppo la gente incivile c'è sempre, soprattutto dove abito io, in via Purgatorio. E se passate vedete che c'è del materiale messo lì che non era oggi da buttare. Purtroppo ci dovrebbe essere più controlli. Il sistema è veloce? È alla portata di tutti? Per le persone anziane no. Per le persone anziane a venire qui è un po' difficile. Quindi dovrebbero fare qualcosa in più il sindaco di mettere le zone un po' più strategiche in periferia perché lì le persone anziane come fanno ad arrivare qui?